Cos'è il monossido di carbonio? Il monossido di carbonio è un gas in colore e in colore che si forma attraverso la combustione parziale di materiale carbonioso. Anche se questo gas è molto semplice dal punto di vista strutturale, è anche molto mortale e rappresenta un grave rischio per la salute poiché le persone possono essere gravemente ferite a causa della lenta esposizione nel tempo e per una breve esposizione a livelli elevati di questo gas. Il monossido di carbonio è anche molto utile, è un gas importante in molti processi industriali ed è anche deliberatamente generato da molti produttori di sostanze chimiche. La formula chimica del monossido di carbonio è CO, il che significa che ha un atomo di ossigeno e un atomo di carbonio. Qualsiasi tipo di combustione produrrà questo gas a vari livelli, che normalmente si dissipano nell'atmosfera, una combustione inefficiente può generare livelli pericolosamente alti di questo gas. In uno spazio ristretto, può diventare molto pericoloso. Una delle fonti più comuni di monossido di carbonio pericoloso è costituita da elettrodomestici come stufe e stufe, oltre a motori e combustione interna come quelli presenti nelle automobili. La corretta ventilazione di qualsiasi tipo di attrezzatura che brucia materiale carbonioso è estremamente importante. Quando animali e persone sono esposti al monossido di carbonio, il gas si lega ai globuli rossi del corpo, interferendo con la loro capacità di trasportare ossigeno. Il gas può rimanere nel corpo per un lungo periodo di tempo, rendendo possibile alle persone di ammalarsi lentamente per avvelenamento da monossido di carbonio. Possono essere necessarie diverse ore affinché il corpo esprima la carbossiemoglobina dannosa che si forma a seguito dell'esposizione a CO. L'avvelenamento da monossido di carbonio è caratterizzato da affaticamento, difficoltà di concentrazione, letargia e dolore toracico. Anche i tessuti alle estremità del paziente inizieranno a morire a causa del flusso limitato di ossigeno. Se non trattata, una persona può entrare in coma e alla fine morire. La condizione viene diagnosticata testando i livelli di CO nel sangue, ed è trattata con l'inalazione di ossigeno, spesso in una camera iperbarica, l'alta pressione accelera l'espressione di carbossiemoglobina dal corpo. In casa, è una buona idea acquistare, utilizzare e testare regolarmente i rilevatori di monossido di carbonio. Oltre a segnalare una perdita pericolosa causata da dispositivi difettosi, questi rilevatori possono anche indicare un incendio senza fiamma. Dovresti anche controllare regolarmente l'efficienza dei tuoi elettrodomestici e assicurarti che la tua casa sia ben ventilata in modo che questo gas dannoso non si accumuli nella tua casa. Diverse aziende realizzano anche rilevatori di CO per veicoli.